A Padova prosegue l'attività della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga. Nella giornata di ieri arrestati in flagranza di reato e denunciati alla procura tre spacciatori. Uno dei tre è un tunisino di 33 anni che è stato sorpreso dalla squadra mobile nei pressi di una sala slot mentre cedeva un involucro di cocaina a due ragazzi per 50 euro. La polizia lo ha arrestato per detenzione e vendita di cocaina. Il tunisino però era già stato incarcerato la scorsa settimana per spaccio di roina nelle vicinanze di un hotel dove alloggiava in via San Marco a Padova. Il questore ha disposto nei confronti del titolare dell'hotel la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività ricettiva per 20 giorni. Riguardo i due acquirenti dello spacciatore la polizia ha provveduto contestando la violazione amministrativa. Gli altri due pusher sono stati sorpresi a spacciare in altre due zone della città. Per loro è scattata una denuncia. In particolare uno di loro è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale in quanto è stato aggressivo nei confronti dei poliziotti e si è perfino denudato in strada per ostacolare il controllo. Grazie. Grazie.